L'ho vero da Burgh, non sono per Sergio Berardi di Dalfin, che ha curato il concerto di San D'Anoite, ma noi non ricordo che abbiamo andato dalla settimana passata, perché la settimana passata abbiamo fatto un'iniziativa per la comunione, allora non vi mandiamo perché gli Dalfin si buttano a fare un'iniziativa, a fare quel concerto di San D'Anoite? Si può dire che noi abbiamo un rapport abbastanza conflitto al treno, perché nel canto siamo qui che sembra bene contro il treno che va impresso e dall'altro canto vogliamo il treno che va piano. Mi sono ancora non un misto, non un esperto, non un piccolo, di comunicazione ferroviaria, mi sono un suonatore, e l'idea romantica del treno che va piano, il piccolo treno della montagna, come ho cantato con un amico all'Enflotard, è scarcare che mi piace, mi piace abbastanza. Mi piace mai che questo treno che passa a gran vitezza, a gran velocità di la montagna. Ci sono due categorie di persone, qui in la montagna, qui vive e qui passano, e vogliono passare, attraversare. Un treno che vivo, che respiro, è una montagna, e che giugno, i due canti dell'Aigoversa, come l'unico inizio, è il mio treno. Allora, cerco di fare qualcosa per lui. Grazie. Allora, io sono ancora a Luburg, che è un posto bello, perché è un posto che non c'è la trevalata, la Val d'Sturo, la Val Gess, la Val Vermenagno, dall'altro i lacuni. Allora, mi mando a Sergio, quando sei a Luburg? Tu vuoi che vada la valata o vuoi che vada la viola? Allora, già non vi fronte, no? Beco d'ancante, beco d'alauta, perché ha quella funzione dell'osmosi, che ha sempre, che ha giù la nostra cultura, sempre, e che, sei pa, ci tengono i commercianti, i ancioi, che portavano insieme, le ancioi, che venivano dal mare, che andavano alla montagna, ho preso la vinciaballa, ho preso le anciapui, e andavano insieme in lei. E soprattutto l'Udalfina, che ha sempre giù questa funzione di trasmissione, di portare la nostra cultura in la villa, perché è una maniera, penso, di maniera più rispettosa, di una maniera uscita, di intende la cultura, perché i trovatori, tu lo sai, i miei che mi, erano un po' chi a cantare le sue canzoni di Lucio Chastel, senza bugiare, e andavano a dire, per l'Europa, portare la nostra cultura, noi altri, che siamo, abbiamo avuto tutte le differenze, se per carità, siamo dei pauri, sono ad orde e ruto, facciamo le stesse cose anche qui. E in cui, oltre, in cui io portavo, non la vostra musica in via, ma l'avete portato, a vostra casa, viene la musica. Allora, un'altra domanda, in che tua edizione dell'Uvernata, so che è per tu, che l'ha caratterizzato di più. No, diciamo che, come sempre, portare a una festa di gente che viene per suonare, da tutti i canti dell'Ussitania, perché abbiamo la grande Talbero, che suonare stasera, che viene da Lengodocca, abbiamo sentito i nostri uomini, che viene da Nisso, suonare, stosserano gli auti, Dario Emanuele, e gli uscitano, se la fanfaro, transalpino, io ho mai lo discurso dei due canti che si aggiungono, e i tapaggi i eri cero, e, scusami se desmento qualcuno, Daniela che fa il suo corso di danza, non faremo, della Valgrano, che mostra le danze della Gascogno, e sempre a tutti i sei mesi, a tutti i sei giugno, e l'idea proprio di comunicazione, di trovare insieme, di fare feste, che è l'idea della musica uscitana che abbiamo, per tutti, sì, non solo per chi è dell'assetto, non solo per chi è dell'inizio della cultura uscitana, o della musica trad, che non sento la parola, tra me viene il Cristo, che ci appare una massa, la baseball, e ci appare tutto, scusami, ma musica popolare uscitana. D'arriero domando, noi siamo qui con Sergio Berardo a Radio Bequitt, il primo novembre del 2014, 30 anni fa, il primo novembre, Radio Bequitt ha avuto la trasmissione con l'Ase d'Alegre di Sergio Berardo. Allora, in che giorno, tu devi noi spiegare perché lui, dal fine, l'ha deciso di donare la targa mestre a Radio Bequitt? Tu mi vuoi fare più, mi vuoi fare più, mi vuoi, no? Pensando al tempo, pensando soprattutto che all'agio che avvenga, al tempo passante, facendo già la musica, ma lui aveva iscritto la targa, è una sorpresa, e poi poi vi dire, che io ho presso il giorno, che sono iscritti a questo targa, lei è una sorpresa, e lui era in seguito di me ho presso il giorno, che vi donare questo prestigioso riconoscimento. Grazie a loro, noi siamo tornati a Baccalica di Sareghe, e agli altri, al prossimo concerto di Lodafine. Grazie, e arrivederci a tutti. Ciao.